Una questione annusa, ancora senza soluzione. Dopo quello sull'ospedale Maresca delle scorse settimane, in programma domani mattina a Palazzo Baronale alle ore 10, un altro consiglio comunale monotematico sulle problematiche afferenti il settore dell'ANU sul territorio di Torre del Greco. Non basta evidenziare i problemi, vanno individuate le soluzioni al più presto. Questa problematica è quotidianamente all'attenzione dell'amministrazione comunale, ha sottolineato il presidente Gaetano Fruglio. È stato convocato questo consiglio comunale che vorrà affrontare nuovamente un tema a noi noto e di cui al dispetto di quanto si possa pensare, perché i risultati sono quelli che sono, ma è all'attenzione dell'amministrazione quotidianamente. Domani si è ritenuto da parte di alcuni proponenti richiedenti questo consiglio comunale monotematico che è stato poi prontamente accolto dalla presidenza del consiglio, tanto che domani si avrà lo svolgimento, si è ritenuto di riportare in aula, nell'aula consigliare e quindi chiaramente anche a beneficio dell'intera città, la riproposizione del problema e di cui mi auguro che non ci sia soltanto una narrazione del problema, anche perché tanti proponenti sono stati parte unitamente al sottoscritto per le scelte fatte fino ad oggi dall'amministrazione per quanto riguarda ovviamente il piano industriale dall'amministrazione per l'igiene urbana. Le problematiche le conosciamo, stiamo sperimentando sul nostro territorio ormai da circa due anni un nuovo sistema di raccolta che è quello del porta a porta che non aveva mai attecchito in città, seppur questa è la direzione che ormai a livello europeo si è scelto di percorrere. Mi auguro che domani non sia soltanto una riproposizione del problema e basta, ma ci siano anche delle soluzioni che i consiglieri che ci hanno accompagnato per un lungo tratto di questa esperienza amministrativa in maggioranza, nonché quelli che sono stati in opposizione sin dall'inizio, abbiano da proporre a noi, all'amministrazione e alla città tutta delle soluzioni, oltre che evidenziare i problemi che noi conosciamo e che ribadiremo nuovamente alla città. Un consiglio fortemente voluto dalle forze di opposizione che a più riprese hanno denunciato criticità e disagi sul fronte rifiuti. La carrella igiene urbana è purtroppo sempre attuale, cambiano dirigenti, assessori, compagini di maggioranza, ma rimane una sofferenza per l'intera città. È iniziata una stagione di monotematici, si portano singolarmente delle tematiche all'attenzione del Consiglio Comunale, in primo luogo per dare la giusta dignità a queste tematiche, particolarmente a cuore dei cittadini, ma anche come conseguenza di un livello di tensione politica che è aumentata sempre di più con le scelte effettuate dal Sindaco di reimpasto. Chiaramente portare all'attenzione ogni singola criticità alimenta questo confronto che si sta agguendo tra chi è a favore e chi è contrario a questa nuova maggioranza. Questo monotematico infatti nasce anche un po' in risposta alla mancata convocazione di un precedente monotematico da parte delle forze di opposizione per trattare la delibera che riguarda la creazione del centro servizi in Viale Sardegna. Sono nate delle disquisizioni normative sulla legittimità o meno di quella richiesta e sicuramente domani non si eviterà di affrontare l'argomento in quanto un centro di raccolta più che un centro servizi rimane attuale come esigenza ai fini dell'intera gestione del ciclo urbano.